Ma ogani al Cosmoprof e lo show Alphapark Milano. London Touch, atmosfere contemporanee. All'ultimo Cosmoprof di Bologna, Alphapark Milano ha confermato la sua volontà di orientarsi sempre più verso scelte innovative e soprattutto d'avanguardia. Oltre 5.000 persone da tutto il mondo hanno assistito agli show on stage. Grande protagonista il team Mahogany Hairdressing, capitanato dall'International Creative Director Richard Thompson. Adoro fare gli show perché per me rappresentano un'opportunità di condividere la mia passione con altre persone. Non ho mai considerato il mio come un lavoro. Faccio quello che mi piace. In quel senso, il mio lavoro è la mia vita. Un show oggi più spettacolare o più tecnico? C'è un po' di entrambi in verità. Ci sono due parti molto tecniche. Quando parliamo di formazione, qualità del taglio e della nuova tecnologia che sta alla base della nostra collezione ArtCubesque, dove utilizziamo quadrati e sezioni a forma di L. Poi c'è una parte più artistica, con tre presentazioni esagerate, molto strong, dei nostri tagli. Quanto c'è dello showman dentro di te? Non ho alcuno showman dentro di me. Semplicemente faccio quello che faccio. Non ho alcuno showman dentro di me. Direttamente da Londra, l'impronta Brit Style ha connotato fortemente le novità. Il team ha presentato l'ultima collezione ArtCubesque. Un tuffo nelle tendenze più attuali che hanno spaziato in tagli e colori. Un tuffo nelle tendenze più attuali che hanno spaziato in tagli e colori. Un tuffo nelle tendenze più attuali che hanno spaziato in tagli e colori. Un tuffo nelle tendenze più attuali che hanno spaziato in tagli e colori. Un tuffo nelle tendenze più attuali che hanno spaziato in ClickB자. Un tuffo nelle tendenze più attuali che hanno spaziato in tagli e colori che hanno spaziato in tagli. E l'ultima collezione ArtCubesque. Il tuffo nelle tendenze più attuali che ha in unствие Develo in tagli non dopo di un tagli. Uno spettacolo dove ritmi incalzanti, abiti evocativi, tecnica e gusto si sono mescolati per comunicare insieme un mood. Protagonista assoluta, la moda a tutto tonno. Grazie per la visione! Grazie a tutti!